salve a tutti mi ha molto commosso il fatto che i frati per questa intenzione di preghiera per i fratelli abbiano voluto chiamare proprio me io che alla fine una sorella non ce l'ho più o comunque così sembrerebbe diciamo che per chi ancora non conoscesse la storia di mia sorella carlotta nobile lei a 22 anni nel 2011 si ritrova si ritrovava con alle spalle una vita comunque del tutto singolare aveva costruito con mille sacrifici una carriera violinistica importante di livello nazionale vincendo tanti concorsi anche internazionali si era laureato in storia dell'arte aveva pubblicato due libri insomma aveva fatto mille cose il segno di una vita votata comunque alla ricerca della cosiddetta perfezione che poi a caro prezzo carlotta imparò essere una mera illusione proprio nel momento in cui stava raccogliendo professionalmente tutti i frutti del suo duro lavoro a 22 anni carlotta riceve una notizia tremenda un melanoma al quarto stadio la sua prima reazione è quella della rabbia perché a me cosa ho fatto di male per meritare tutto questo ben presto però cominciando a frequentare per le cure reparti oncologici vedendo il dolore dei bambini questa domanda poi si tramutò in perché non a me carlotta cominciò a mettere al servizio dei malati l'unica cosa che aveva a disposizione i suoi talenti e per quanto riguarda la scrittura lei crea un blog anonimo sul cancro che si chiamava il cancro e poi con cui infondeva coraggio a migliaia decine di migliaia di persone che cominciarono a raccogliersi attorno a questo sito e ad esempio lei scriveva io non so più quanti centimetri di cicatrici chirurgiche ho ma li amo tutti uno per uno ogni centimetro di pelle incisa che non sarà mai più risanata sono questi i punti di innesto delle mie ali e poi invece per quanto riguarda la musica carlotta riusci a portare le note del suo violino nei reparti oncologici per suonare per i pazienti nel corso dei concerti tenuti da questa organizzazione di volontari cui lei aderi i donatori di musica senza tra l'altro neanche dire neanche in quell'occasione di essere malata di essere una di loro e diciamo che però la svolta nella vita di carlotta sarà il 4 marzo del 2013 giorno nel cui a risveglio da un coma a milano carlotta si realizza di aver visto tutta la sua vita cambiare in un attimo all'improvviso per miracolo riceve dall'alto la fede in gesù cristo nel valore salvifico della sua sofferenza lei comincia a scrivere a dire a confidare a noi familiari di questa svolta interiore comincia a dire ora ho imparato finalmente a fidarmi di dio so che c'è un progetto più grande tramite il suo confessore il parroco romano don giuseppe trappolini carlotta riuscì anche a scrivere a papa francesco quello che poi divenne il suo testamento spirituale e a questa lettera poi papa francesco rispose dicendo questa ragazza mi dà coraggio carlotta scriveva ne leggo soltanto due righe caro papa francesco tu mi hai cambiato la vita io sono onorata e fortunata di poter portare la croce con gioia a 24 anni so che il cancro mi ha guarita nell'anima sciogliendo tutti i miei grovigli interiori e regalandomi la fede la fiducia l'abbandono e una serenità immensi proprio nel momento di maggior gravità della mia malattia io confido nel signore eppur nel mio percorso difficile e tormentato riconosco sempre il suo aiuto e diciamo che poi però nel maggio del 2013 le condizioni di salute di carlotta peggiorarono ulteriormente lei dovette far ritorno a casa a benevento per trascorrere i suoi ultimi mesi lei lo sapeva bene purtroppo e pensate che nonostante ciò carlotta si diceva addirittura felice di poter tornare a casa perché lei diceva almeno così posso ricostruire quel rapporto con mio fratello Matteo che nel frattempo comunque era venuto un pochino meno tra perché lei comunque era sempre in giro in italia fra milano roma carrara insomma per le per le cure e mentre io ero qui a benevento e diciamo che in quei tre mesi noi abbiamo visto una situazione assurda in quegli ultimi tre mesi perché i dolori di carlotta erano sempre più grandi carlotta viveva una vera e propria passione però maggiore sempre maggiore era la grazia carlotta era sempre più serena nella preghiera del santo rosario della coroncina della divina misericordia nell'ultima confessione che ebbe addirittura il confessore disse era quasi lei a consolarmi a infondermi coraggio e diciamo che potrei raccontare tanti momenti intimi che ho vissuto con mia sorella in quei giorni penso a per esempio a due giorni dalla morte carlotta mi disse teo io stavo per uscire dalla sua camera mi voltai lei mi disse ma tu lo sai che ho guadagnato la fede quella vera non quella delle litanie o altro ma quella dell'affidarsi al padre poi pensate che nell'ultimo giorno nell'ultima notte della sua vita quella fra il 14 e il 15 luglio del 2013 carlotta quasi non riusciva ad addormentarsi per continuare a risbigliare a guardare il soffitto nonostante fosse già in travaglio respiratorio per continuare a ripetere signore ti ringrazio signore ti ringrazio signore ti ringrazio ed era lucida e pensate che il giorno dopo a poche ore della morte carlotta disse i miei tre uomini meravigliosi papà alessandro il suo fidanzato e matteo la mia dolce mamma poi accarezzò il viso di mamma che era a tiro e disse cosa voglio di più io sono fortunata e carlotta poi allo scoccare della mezzanotte allo scoccare del giorno del 16 luglio il giorno della madonna del carmelo carlotta salì in cielo e diciamo che vorrei ricordare appunto queste ultime parole di carlotta unendomi in preghiera con voi per per tutti per pregare per tutti i fratelli affinché tutti quanti coloro che hanno la fortuna di avere un fratello una sorella possano veramente rendersene conto e dire come carlotta non nel dolore come carlotta ma nella gioia io sono davvero fortunato ad avere un fratello o ad avere una sorella